buongiorno parti tu o parto io parto io buongiorno bentornati carissimi amici come andiamo tutto bene Sara con calma tu ti vedo che se vuoi partire subito perché è una cosa che ti piace vero? sì le Hairdorables big hair don't care questo si tira per aprirla sì ma vediamo un attimo prima tutta sta premura ci sono 11 sorprese credo sì e poi è la serie 2 serie 2 perfetto poi queste sono belle e io vorrei tanto lei oppure lei ma lei è impossibile che la troviamo perché è impossibile avviciniamo un attimo di queste qui non le vedo inclina? ok quali vorresti di queste? allora vorrei la sirena che è questa qua che è anche questa oppure questa ma questa è impossibile quindi la gatta prima di aprire vi ricordiamo comunque se vi va ad iscrivervi al canale basta schiacciare o sulla iconcina che c'è sul video dovrebbe essere qua dovrebbe aprire qua la faccina del pelucino che poi prima o poi cambieremo condividere video e mettere mi piace e iscriverci anche a qualcosa salutarci o se volete essere salutati in un video di saluti apriamo? aspetta! ok vai! aspetta! ok vai! si tira giù e adesso cosa succede? io non le conosco si apre qua! wow! e cominciamo a vedere cosa c'è dentro e qua c'è la checklist vediamo quali sono tutte queste indorables allora... aspetta non la vedo la checklist metti la qua così ok allora qua c'è questa che di queste due... no bella no... e di questa mi piace questa o questa di queste due mi piacciono tutte e due di questa mi piace lei di questa mi piace lei perché lei è terribile queste due mi piacciono tutte e due questa mi piacciono tutte e due questa mi piacciono tutte e due Questa mi piace solo lei Questa tutta e due Questa solo lei E Questa è tutta e due Questa è solo lei Questa è tutta e due E questa, questa, questa e questa Questa è tutta e questa Aspetta che Allora, qua ci sono le larità Leggende Vabbè Comunque come di tutte queste cose Ci sono quelle più rare e quelle meno rare Questa è la più rara Vabbè, giriamo il foglio e vediamo cosa c'è dietro U c'è una bella immagine Che bella questa illustrazione, ti rende un po' di su Anche queste sono belle Belle E adesso perché è divisa in due parti la scatola? Allora partiamo dagli accessori Ah, uno Ah, si apre lo sportellino Che carino E cos'è? Non è di lei Ah, qui c'è scritto Guarda qui, qui, qui C'è la cosa apri Forte queste scatoline Guarda c'è un pettinino Con gli adesivi Facciamo, dammeli che li faccio vedere io Intanto che tu Questo è il pettinino Con un adesivo stella E un acquoricino E Gli adesivi E sembra, vedete Delle scarpine, vedete? Mettiamo qua e buttiamo via E vedete due Plastica, eh Questo che può riciclare va nella plastica Questo lo vedete che ci sono due scarpine Due paio di scarpine Ah, in fondo? Sì Non so se si riesce a vedere Poi lo facciamo vedere dopo Sportellino numero due Vai, apri Esci, esci, esci Esci Forza Eccolo Apriamo Qui cosa ci sarà? Uno strumento Un po' misterioso Forse ci sarà Ah, aspetta, aspetta Forse ci spoileriamo Le scarpine Facciamo uno spoiler No, se esce questa No, dici una sirena? Aspetta, aspetta Devo controllare chi ha questi scarpi Chi ha questi scarpi Ma fatti una sorpresa Dammi le scarpe che le facciamo vedere intanto No, non me le guardo Non guardiamo che se no ci spoileriamo la sorpresa Delle scarpe Però intanto ve le faccio vedere Che sono queste qui col bordo verde sotto E le teniamo qui Sportello numero tre Già aperto Sara è incontenibile Va bene La sirena non può essere Abbiamo un altro adesivo Questo non si può vedere Perché ci spoilerà la sorpresa Sei sicura? Sì Ma di che hai imparato tutte queste cose? Da glitter Che tu sei una glitter dipendente Vero? Anche voi guardate i glitter? E qui abbiamo una borsetta computer Sembrerebbe Bellina, carina Ti prego Fa Oh, la mia preferita Perché si chiede solo la scatola E qui abbiamo la quarta Ti prego Fa che non sia la mia Quella che non mi piace L'unica che non mi piace Ma non è qui dentro No? È qui Sì Ma guarda L'unica che... Aspetta, aspetta, aspetta Sono curioso Che è l'unica che non mi piace E vabbè, può succedere Anche nelle migliori famiglie È questa E lei? Sì, questa non mi piace E lei? Non lo so Ma credo di proprio di sì Apri Sei Oh, carina Una mesh Cos'è? Una mesh Caramella Un fiocco caramella Una mesh caramellosa E adesso Via anche questo Cosa ci rimane ad aprire? La andalabola E come si apre? Aspetta Ho capito Ho capito Ah, ce l'ha Ok E adesso tiriamo fuori Fai vedere così Ecco, ecco, ecco Beh, qui in mezzo Qui in mezzo Così Ah no, ma bisogna solo È aperta sotto Basta girare Se non vuoi aprirla Eccola qui No, solo i capelli si vedono Devi aprire, è vero Hai ragione tu Sì Non è quella che non piaceva a me Questa è la confezione Che conteneva L'Air Adorable Dai, è carina Vediamola Riesci a capire come si chiama? Cali Cali? Allora, intanto mettiamo a cali le scarpe Ma un pezzo di puzzle trovi? Questa più un pezzo di puzzle Allora, questo è anche il piedistallo Se no Come sta in piedi? Così Aspetta, vestiamola Ecco qua Anche se io ne volevo un'altra Devo dire che è bellissima Sembra quasi quella che mi piaceva tanto Beh, posso vestirla da sirena? Certo Ok Mettiamo la mesh La mesh Mettiamo io Dove è? Ah, lo vedi tu Io proprio con la mesh Non ci vado molto d'accordo Dona Manuela Teniamo un po' inclinata Così la vedono bene anche I nostri amici No, qua no No E se non gliela mettiamo dopo Vedi tu Vediamo com'è? Carina Carina Eccola qua Gli ho messo le scarpine C'è anche la borsina Aspetta che spegniamo Il faro che abbiamo acceso Perché non è il massimo Eccolo qua Pettinino per pettinarle I morbidi e settosi capelli Rivediamola bene da vicino Mettiamola la sua borsetta Tienila qua in mezzo tu Tienila così Perfetto Così Vediamo Dov'è il figo Fogliettino Vediamo come Solo che c'era questo adesivo E quindi ho paura che fosse lei Ti è illuso E facciamo vedere Questo è l'adesivo di Kali Non è un adesivo È un pezzo di puzzle Ma è lei Kali? No, non è Kali questa Sì Lei è Kali Ma non è Kali? Sì Ma non è Kali È lei Ma quindi ha due pettinature Kali? Sì Kali è in due personaggi diversi Questo e questo Quindi però abbiamo Ti fa vedere l'altra versione Abbiamo la versione Keyboard Tastiera E l'altra invece è la Magnetic Kali Questa è la versione più bella Solo che questa Mi ha illuso Perché pensavo che fosse lei Aspetta che la mettiamo a fuoco Ok Beh beh però è carina È carina veramente Non mi piace Devo dire che E qui è rimasto poi la scatola Che è un po' fuori fuoco Che conteneva Ma ti fa vedere anche C'è anche lei Eh sì Si vede che fa parte Di un trio musicale Quindi il tutto Può essere poi riposto Nuovamente Dentro alla sua scatola O dentro al suo armadio Che vuole dire si voglia E Pensavo Più brutta Devo essere sincero Non me l'ha immaginato E io me l'aspettavo più grande Più grande? Sì Ah Beh è un compenso carina È anche divertente Il fatto che bisogna aprire Tutti i pacchettini Per trovare le cose È carina ma Sei stata contenta almeno? Sì È bellissima Benissimo La facciamo vedere Dopo la guardi Ci giochi anche tu È vero È carina veramente Cali Calina È carina Non è brutta Aspetta eh Togliamole un attimo Gli stivaletti Che cosa stiamo combinando Anche perché i nostri amici Stanno vedendo Dovresti farlo un po' più in mezzo Perché stanno vedendo solamente Il vuoto cosmico Ah e qua c'è la strada Sì la strada l'abbiamo vista Qui ci sono Porta elementi Scarpe Che abbiamo l'armadio E Qualcuno mi ha camminato Quello era un armadio No qualcuno È un piede sulle mie dita Questo è l'armadio Questo è il suo lettino Volevo far vedere Che lei ha anche un costumino sotto Eh Si può spogliare Vediamo com'è C'è un costumino C'è un costumino da bagno sotto Benissimo Quindi vi salutiamo Grazie sempre Per tutto quello che fate per noi E Ci vediamo al prossimo video Sara Sì Salute a tutti Ciao Ciao